Bari in Fiamme in particolar modo e tutta la fascia costiera, quindi basta andare sul sito o chiedere ad un'agenzia il catalogo CEDOC e potete benissimo prendervi una settimana e andare in Albania. E io che ci sono stato ve la consiglio anche perché il cibo è buono e ha due passi da Bari e quindi dal porto per poter raggiungere questa località turistica. E poi i costi sono davvero molto molto contenuti, a differenza della Grecia che ormai per noi baresi e non solo è diventata molto antica. Vi saluto, spero di avervi aiutato per un viaggio per la prossima estate. A presto!